A Libero Angelilis, direttore dell'Agenzia delle Entrate Regionale, l'importanza di utilizzare i servizi online. Da qualche anno l'Agenzia attua una nuova strategia per quanto riguarda i servizi ai contribuenti. Cerchiamo di spostare l'asse soprattutto su quelli che vengono dati in via telematica. Questo serve per portare meno contribuenti in ufficio e ridurre la pressione in modo da poter dare anche un servizio migliore ai contribuenti. In tutto questo c'è anche una contrazione di costi sociali perché sono servizi che si possono utilizzare da casa anche 24 ore al giorno e quindi superano l'orario stretto di apertura degli uffici. Vediamo che già parecchi contribuenti li stanno utilizzando. Noi nell'ultimo anno, nel 2012, abbiamo avuto 54.000 contribuenti in meno che si sono recati negli uffici a fronte di 650.000 servizi che abbiamo comunque erogato negli uffici. Lei pensi soprattutto che ci può essere una riduzione di traffico, ci può essere una riduzione di ore di lavoro perse, di permessi da prendere per andare a fare una pratica in ufficio. Si può lavorare la domenica a casa direttamente, uno si può collegare, può avere le informazioni che preferisce sulla propria posizione fiscale e quindi tutte quelle operazioni che possono contribuire a non intasare l'ufficio di gente per questioni che può fare tranquillamente da casa. Ci sono anche novità per quanto riguarda i servizi Civis e PEC? Sì, per quanto riguarda la PEC il passaggio auspicabile che sta nella mente di tutti è quello che possa servire per qualsiasi adempimento, qualsiasi punto di contatto dell'agenzia con il contribuente. Nella maggior parte stiamo parlando dei contribuenti imprese dovrebbe essere collegato con la PEC perché in maniera tale da evitare tutti gli errori che si possono commettere nella trasmissione di documenti e quant'altro. Per quanto riguarda Civis registriamo con la massima soddisfazione che c'è un aumento, si può parlare di cartelle sugli errori fatti sulle dichiarazioni, sugli errori formali fatti sulle dichiarazioni, invece di andare di corsa in ufficio con l'ansia e quant'altro si può operare con Civis e abbiamo avuto circa 40.000 contatti lo scorso anno. Tra l'altro abbiamo che quasi la totalità di queste pratiche viene lavorata entro tre giorni, lavorativi tre giorni. Quali sono i vantaggi invece dell'accorpamento dell'agenzia territoriale con l'agenzia dell'entrata? I vantaggi derivano soprattutto dalla riduzione della spesa pubblica insomma rientra nel capitolo più ampio di riduzione della spesa pubblica. Allora i vantaggi possono essere molti diciamo che si svilupperanno negli anni a venire per ora abbiamo cominciato a coordinare soprattutto le attività di supporto cioè praticamente le attività trasversali e non quelle che noi chiamiamo core, di core business cioè la conservatoria, il catastro rimarrà la stessa i nostri uffici che fanno i controlli rimarranno gli stessi sono le attività trasversali per esempio il personale, la pianificazione, il controllo quelli possono avere dei grandissimi vantaggi nell'accorpamento il contribuente comunque non risentirà assolutamente in nessun caso di questa trasformazione Direttore, l'evasione fiscale in un periodo di crisi economica è una via ancora più drammatica quali sono gli strumenti messi in campo per combatterla? Lei dice benissimo, è vero che in periodo di crisi si accentua il valore negativo del fenomeno dell'evasione fiscale perché io ritengo che in un periodo normale si tratti solo di concorrenza sleale tra aziende in cui uno fa più il furbo di un altro in un periodo di crisi chi si comporta correttamente corre il rischio di uscire fuori dal mercato e di fallire direttamente Quello che noi stiamo mettendo in campo, noi abbiamo trovato un numero di controlli stabile non vengono aumentati i controlli dall'agenzia da un paio di anni perché puntiamo soprattutto a farli meglio e con maggiore qualità Come li facciamo? C'è un'analisi del rischio su tutte le tipologie di contribuenti cioè i grandi contribuenti vengono, le grandi imprese vengono seguite con una sorta di tutoraggio anno per anno per cui in un mondo ideale si arriverà un giorno che non faranno più errori ecco le medie imprese, le piccole imprese hanno delle metodologie di controllo particolari specifiche per questa tipologia di contribuente per le persone fisiche c'è il redditometro che entrerà in funzione della nuova versione in questi giorni e il tutto è fatto a seguito di un'analisi del rischio particolarizzata per cui si arriva a selezionare per i controlli soltanto quelli che hanno più indici di pericolosità fiscale Chiudiamo con il rapporto tra agenzie all'entrata e giovani ci sono iniziative e è nata una sinergia anche tra fisco e scuole Sì, noi veniamo dalla chiusura di questa iniziativa annuale che però nasce già dal 2004 è un'iniziativa che viene fatta, si chiama appunto come diceva lei fisco e scuola che viene fatto in collaborazione con le scuole della regione viene fatto anche nel resto d'Italia ed è di una gratificazione enorme insomma avere contatti con i ragazzi nelle scuole per spiegare quali sono i principi di legalità e di solidarietà e quest'anno abbiamo fatto anche un concorso per cui ci sono stati dei premi dati a delle scuole ma che hanno fatto dei prodotti eccezionali, bellissimi insomma pieni di inventiva e questo ci fa sperare molto in un futuro migliore dell'Italia e questo ci fa sperare molto in un futuro migliore dell'Italia